Nuova pioggia di missili sull'Ucraina, pochi giorni dalla decisione dei partner occidentali di inviare carri armati a Kiev. Il governo ungherese è pronto a ritirare i suoi membri dai consigli di amministrazione delle università, condizione necessaria per ricevere i fondi Erasmus. Tehran si vendica delle sanzioni di Bruxelles e Londra, colpendo 34 persone e istituzioni europee, tra cui una europarlamentare italiana. Almeno 11 persone sarebbero state uccise, diverse ferite in successivi attacchi russi a Kiev e in altre parti del paese giovedì. Queste immagini sono state registrate a Monshun, circa 50 chilometri dalla capitale ucraina. I missili russi hanno colpito case e infrastrutture e hanno causato diverse vittime. Quest'uomo ha perso sua moglie mentre cercava di proteggerla dopo l'inizio del bombardamento. L'ho afferrata e l'ho trascinata via, poi c'è stato un gran botto, siamo caduti per terra. Le ho detto alzati, ma lei non si alzava. Ho cercato di portarla via, ma non riusciva a stare in piedi. Anche Kiev è stata presa di mira dai missili. Come mostrano queste immagini, migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana. Questo massiccio attacco russo arriva il giorno dopo che diversi paesi occidentali hanno annunciato la consegna di carri armati all'esercito ucraino. Secondo l'aeronautica ucraina, 47 dei 55 ordigni lanciati dalla Russia contro obiettivi in tutto il paese sono stati abbattuti. Lo scontro sulle targhe automobilistiche dei serbi residenti nel Kosovo è ancora lontano dal placarsi. Secondo i rappresentanti della minoranza etnica, i doganieri kossovari impedirebbero alle vetture con immatricolazione serba di rientrare nel paese, violando così gli accordi mediati dall'Unione Europea. Nel quadro dell'intesa, la Serbia si è impegnata a non rilasciare nuove targhe, mentre ai residenti dell'area frontaliera è stato confermato il diritto di continuare a circolare con le immatricolazioni già in loro possesso. Milica Andrić Rakic, di una associazione serbo-kosovara, teme che il governo di Pristina continui ad ignorare l'accordo, nonostante le pressioni di Bruxelles e Washington. Non sappiamo ancora quale sia il criterio per dire che questa macchina può passare e quest'altra no. La soluzione proposta dall'inviato statunitense nella regione è quella di armonizzare le targhe di tutti i paesi dei Balcani occidentali, considerando questo come un passo preliminare verso un'intesa globale tra Serbia e Kosovo. Ned Mezzin Spau, docente di scienze politiche, spiega che il braccio di ferro sulle targhe è solo un pretesto nel più ampio conflitto per il controllo effettivo dell'enclave serba nel nord del Kosovo. Per ciascuna delle parti si tratta di trovarsi in una posizione di vantaggio in vista dei negoziati finali. Questo clima di incertezza preoccupa tanto l'Unione Europea quanto gli Stati Uniti, veri artefici dell'indipendenza del Kosovo, che temono quasi 30 anni dopo la fine delle guerre della ex Jugoslavia il riaccendersi delle tensioni interetniche. Il governo ungherese è pronto a fare retromarcia con l'Unione Europea per assicurarsi di non perdere i fondi destinati alle sue università. All'inizio di gennaio la Commissione aveva avvertito Budapest che la maggior parte degli atenei ungheresi non avrebbe ricevuto i contributi europei per i programmi di Erasmus Plus e Horizon Europe, a causa della crescente influenza del governo sul sistema di istruzione superiore. L'esecutivo ora è pronto a richiamare i propri membri dai consigli universitari. Da parte nostra non è un problema se la Commissione Europea solleva la questione che i politici non possono essere membri dei consigli di amministrazione delle università. Possiamo risolvere la cosa con un regolamento. Possiamo discutere anche il problema che gli attuali mandati dei consigli di amministrazione e non hanno limiti temporali. Il governo ungherese è aperto sul tema. Nel 2021 la maggior parte delle università del paese è stata privatizzata e ora 21 atenei in totale sono gestiti da fondazioni private, con in molti casi esponenti politici governativi di alto livello nei board. Come Tibor Navracic, lo stesso ministro che sta negoziando con l'Unione sul programma Erasmus Plus, che è anche presidente del consiglio di amministrazione di un'università. Analoghe posizioni di primo piano sono occupate dal suo collega degli esteri, Peter Schearto, da quella della giustizia Judith Varga e dall'eurodeputato di Fidesz, Laszlo Troshani. Per alcuni analisti il governo di Viktor Orban è ritirata nella prolungata battaglia con la Commissione e probabilmente a breve cederà alle richieste di Bruxelles anche in altri ambiti. La posizione del ministro Navracic sulla questione Erasmus è un netto arretramento rispetto alle precedenti postura del governo. La questione ora è fino a che punto questo atteggiamento si applicherà a tutte le altre questioni sul tavolo. Perché non dimentichiamo che per soddisfare le 27 richieste dell'Unione Europea, chiamate super milestones, l'Ungheria dovrà avere un'analoga disponibilità al compromesso. E' all'accordo. Anche le restrizioni sul programma Erasmus rientrano infatti in quel meccanismo di condizionalità che vincola l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto, tramite cui si propone di congelare 13 miliardi destinati all'Ungheria. Per sbloccarli Budapest deve soddisfare 27 richieste della Commissione. E' sempre disposta a farlo. La Francia ha consentito alla richiesta dei vertici militari del Burkina Faso di ritirare le sue truppe dal paese. Il Burkina Faso, che attualmente sta combattendo un'insurrezione islamista, afferma di volersi difendere. Attualmente ci sono 400 effettivi francesi nel paese, con solo un mese per andarsene. L'anno scorso le truppe francesi hanno lasciato il vicino Mali, dove avevano trascorso otto anni a combattere i jihadisti. Ecco cosa pensano alcuni cittadini. La presenza di basi militari francesi in Burkina Faso viola la sua sovranità, e ne abbiamo chiesto la partenza. Vista la determinazione del nostro attuale esercito, e poi il numero elevato di volontari per la difesa della patria che il governo ha reclutato, pensiamo che la partenza dell'esercito francese non sarà un problema. Siamo in guerra, essa non è ancora finita. Se la guerra è finita con il terrorismo, allora possiamo decidere che anche la Francia se ne vada. Per il momento siamo pronti? È un dubbio che abbiamo. Il Burkina Faso ha smentito la notizia, secondo cui impegnerà il gruppo russo di mercenari Wagner contro i jihadisti, ma una prima delegazione di questa organizzazione ha già discusso con le autorità locali. La Wagner è già attiva in diversi stati africani. Sanzioni vendetta dell'Iran contro 34 persone ed entità europee del Regno Unito. La decisione di Teheran è risposta alle recenti sanzioni europee contro 29 funzionari iraniani legati alla violenta repressione delle proteste popolari in Iran. Colpiti dalle sanzioni iraniane, tra gli altri il procuratore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito britannico, e diversi parlamentari europei, tra cui un'italiana, la leghista Anna Bonfrisco. Nella lista nera anche la sindaca di Parigi, Annie Dalgaux, l'intellettuale francese Bernard-Henri Lévy e tre dirigenti della rivista satirica Chalie Hebdo, presi di mira a causa dell'ormai celebre prima pagina contro Kamenei, il leader supremo dell'Iran. Euronews ha parlato con l'eurodeputato olandese Thijs Royten, inserito nella lista nera di Teheran. Penso che siano in preda al panico e si sentano molto deboli se sono passati a questo tipo di sanzioni. E' strano che pensino di poter mettere a tacere così il Parlamento europeo. Semmai è vero il contrario. Siamo più motivati a continuare i nostri sforzi per dare un nome alla guardia rivoluzionaria per quello che è un'organizzazione terroristica che sta terrorizzando il proprio popolo e utilizzando metodi terroristici anche al di fuori dell'Iran. Gli effetti delle sanzioni iraniane, di vieto di ingresso in Iran e rischio di congelamento dei beni eventualmente in possesso nel paese. Personalmente mi sento ancora più incoraggiata a continuare a sostenere gli iraniani in Iran che stanno resistendo al loro regime e lottando per la libertà. Quindi penso che politicamente saremo ancora più motivati e più decisi su ciò che pensiamo di questo regime. L'Iran sostiene che le sanzioni decise lunedì a Bruxelles e Londra violano la carta delle Nazioni Unite. Tra i sanzionati iraniani dell'Unione Europea figurano molti personaggi di spicco delle forze armate nonché la stessa TV di Stato iraniana responsabile della produzione e trasmissione delle confessioni forzate dei detenuti. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 9 palestinesi tra cui una donna di 60 anni e ne hanno feriti almeno altri 16 durante un'incursione a Genin nella Cisgiordania occupata. Il ministro della Sanità palestinese Al-Kaila ha accusato gli israeliani di aver impedito l'accesso ai soccorritori e ha denunciato l'impiego di gas lacrimogeni nel reparto pediatrico di un ospedale che ha causato il soffocamento di diversi bambini. Israele, oltre a confermare che proprie truppe stavano operando nell'aria teatro delle violenze non ha rilasciato alcun commento. Dall'inizio dell'anno le forze israeliane hanno ucciso almeno 25 palestinesi tra i quali 5 bambini.